Al Bruno Nespoli di Olbia, l'Olbia ospita l'Arezzo. Gli Amaranto vogliono riscattarsi dopo la sconfitta contro il Pescara. L'Olbia vuole ritrovare un successo che manca addirittura dal 2 novembre, prima dell'inizio del match. Minuto di silenzio per ricordare Gigi Riva, un minuto particolarmente toccante in una terra come la Sardegna, che è stata la sua patria calcistica. Al quinto minuto Rinaldi si addormenta, aspetta che il pallone entra in area, Gucci si getta sulla sfera, dà una spallata al portiere dell'Olbia, ma non riesce a concludere verso la porta. Riesce a calciare invece Ragazzu, destro strozzato che non può impensierire Trombini. Ci prova dalla distanza anche la squadra ospite con Montini che raccoglie e conclude abbondantemente alto il suo destro. Da corner Catanese in una specie di rovesciata, poi forse l'ultimo tocco è addirittura di Bellodi. In ogni caso blocca Rinaldi, alla mezz'ora si fa vedere in avanti anche l'Olbia con l'occasione più grande di tutto il primo tempo. Se la costruisce Ragazzu, stop di destro, tiro col sinistro a pochi metri dalla linea di porta. Stop a tutto Chiosa, nella ripresa il gol che decide la partita lo segna. Un sardo acquisito come De Sena e non può essere in una casualità. Nel weekend in cui la Sardegna ricorda Gigi Riva, tap in del numero 4 che con la maglia del Cagliari ha raccolto 206 presenze. E gol del vantaggio dell'Olbia che torna a festeggiare una rete. 769 minuti dall'ultima volta. Prova a rispondere l'Arezzo con Shaka Mavuli. Soluzione a metà tra un tiro e un cross. C'è deviazione, palla in calcio d'angolo. Al 56esimo, destro al volo di Gucci. Oggi, attaccante dalle polveri bagnate, non riesce a impensierire la difesa dei padroni di casa. Si inventa all'improvviso un tiro dalla distanza a Gaddini, entrato nella ripresa. Si spegne la sua traiettoria un paio di metri dallo specchio. Si spegne invece, come nel primo tempo, sulle gambe di Ichiosa. Il tiro di Ragazzu. Donati agisce a destra, ma si sposta a sinistra. Serve un cioccolatino a Gucci. Scatta alle spalle di tutti, ma trova solo l'esterno della rete. Prova Ragazzu su punizione, non molto lontano dalla porta. Sembrava però sulla traiettoria Trombini. Duettano i due nuovi entrati. Lazzarini e Iori la sbuccia Castiglia. Per poco non diventa un assist a Sciacca Mavuli. E dopo sette minuti di recupero, l'arbitro dice che non c'è più tempo. Torna al successo l'Olbia. Prima partita con tre punti per il nuovo mister Gaburro. Grazie. Grazie. Grazie.